C'è un intervento a tutela della mia immagine e della mia persona poiché io non sono certo dove vanno avvenire alcune immagini delle quali sono stato ripreso anche io per quanto mi riguarda ho autorizzato interponialmente al Consiglio soltanto la impresa che so dove va a finire e quale saprò per cui io in questo momento divido chiunque a parte delle imprese private a trasmettere su siti la mia immagine e mi riservo di coerrare grazie grazie allora il segretario ha fatto una procedazione grazie al segretario allora passiamo al secondo punto a merdine del giorno allora che lo scusa che lo scusa modifica regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale e delle commissioni e delle commissioni consigliari io ho invitato i consiglieri comunali ad avere un comportamento consono alla misura e all'aula e allora che lo scusa sto facendo e l'altra del giorno allora che lo scusa e allora un attimo allora siamo sul secondo caso allora c'è una ma non possiamo votare sul secondo caso abbiamo chiesto la parola sul primo ma abbiamo già votato sul secondo caso questa è la parola che si è ma sul secondo caso non è tutta la passione di cosa allora siamo c'è non ha bisogno di votazione la mia sua votazione la parola che non ha bisogno di votazione allora 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 abbiamo avuto tre subito allora votazione tende per prendere se tutto il precedente è stata fatta una votazione siamo sul secondo caso sul secondo caso c'è una proposta che che venivo a fare c'è il consigliere cortese siamo sul secondo caso io ho chiesto la parola c'è una proposta io ho chiesto la parola su quale capo io ho chiesto la parola per reprima e me la devi dare per forza la reprima quello che ha detto il segretario ho fatto io e finito mi dovete dare la reprima allora 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 scusi il consigliere salvo siamo sul secondo caso ho chiesto la parola per reprima se tu me lo fai chiedere la parola si chiesto non lo stiamo guardando tu sei allora allora siamo sul secondo caso avete un gioco dopo la reprima la parola il consigliere salvo ma che ha visto una replica questo che è stato che ha fatto il suo secondo caso perché ci sia le prese consigliere salvo il consigliere salvo ha visto un punto di parole perché il stato si ritiene già dove portare un nuovo parola se lo dire dove portare un nuovo parola a un consigliere salvo su questa specifica questa un personale che il suo non c'è il secondo campo dopo il giorno prego il passato è un assaltamento del consiglio non vuoi farlo non è mai il consiglio è un parco nazionale perfetto aspetta un attimo l'invistruzione oggi viene contisse